Ancora in pieno centro, ancora minacce, una nota commerciante cremonese ieri sera all'uscita dal negozio è stata avvicinata da una banda di sei ragazzini sui 15 anni visibilmente alterati. Dopo veniamo a rubare da te, tanto hai l'assicurazione, le hanno detto. Un piccolo branco, probabilmente già avvistato nella zona di Piazza Lodi, dove un gruppo che risponde a queste caratteristiche è già stato segnalato per precedenti di minacce risse. Venerdì una truffa con furto in casa in pieno giorno sul Viale Po, lo stesso giorno una donna minacciata con la pistola all'Ipercop. Gli episodi di aggressioni, furti, minacce a Cremona nel centro della città si stanno moltiplicando. Per la prima volta, ma uno dei primi casi anche in Italia, il TAR ha confermato su richiesta della Questura il ritiro della licenza ad un bar di Porta Milano a causa della frequentazione dello stesso da parte di persone con pregiudizi di polizia o penali e per una situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica dettata ad esempio da risse. Cosa sta diventando la piccola e tranquilla Cremona? Fino a pochi anni fa la nostra città aveva almeno questo pregio? Essere un luogo sicuro, ora sta perdendo uno dei pochi pregi rimasti. Interrogarsi subito per intervenire in tempo utile.